Ci sono tre scuderie in 26 punti a due gran premi dalla fine. Eccalla, doveva succedere, siamo stati ufficialmente sanzionati per aver superato il limite di spesa. Con l'intro della scorsa volta quella dell'intelligenza artificiale abbiamo spopolato. Pensate che solo con quel video nell'arco di pochi giorni abbiamo abbassato la percentuale dei non iscritti al canale, quindi di quelli che guardano i video ma non sono iscritti, da circa il 63% al 53%, 52% adesso non so esattamente quanto sia, comunque più o meno siamo lì, abbiamo abbassato circa il 10%. E questo ci ha portato nell'arco di pochissimo tempo dalla pubblicazione di quel video a raggiungere i 10.000 iscritti al canale. Quindi colgo l'occasione per ringraziarvi infinitamente. Ma come ho scritto anche sui social non voglio celebrarlo come un traguardo perché non è un traguardo, abbiamo appena iniziato. Quindi questo è soltanto un ottimo punto di partenza. Tra l'altro non so se quando uscirà questo video sarà già uscito o starà per uscire lo speciale per i 10.000 iscritti. Quindi se non l'avete visto dopo aver visto questo video andate a recuperarlo perché è un video un po' diverso in cui vi parlo anche un po' di tutto il lavoro che c'è dietro quello che vedete in questi video. Per cui mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale se non siete iscritti perché ci sono ancora 11.613 di voi che guardano i miei video senza essere iscritti al canale. Per cui mi raccomando rimediate, facciamo in modo che al prossimo video questa percentuale sia ancora più bassa. Cerchiamo di scendere sotto il 50%. Dai, dai, adesso torniamo al video. Signori ben ritrovati in questo nuovo video. Proseguiamo la nostra stagione in Red Bull con Gabriele Mini. Siamo alla fine della seconda stagione di questa serie che poi sarebbe alta la quarta perché siamo nel 2026. Faccio un breve recap perché arriviamo a queste ultime tre gare in una situazione molto molto equitibrata a livello di campionato costruttori che si è riaperto dopo l'ultimo video. E quindi ce la possiamo effettivamente giocare. Sembrava essersi chiuso ad un certo punto il campionato invece poi causa la debacle dell'Aston Martin nell'ultima gara. Si è riaperto tutto. È ancora molto difficile perché abbiamo circa 30 punti di svantaggio e c'è anche la McLaren comunque in Lizza. Quindi è tutto molto complesso ma ce la possiamo giocare. Mentre il Mondiale di Epilodi è già stato vinto da Max Verstappen ampiamente. Ovviamente come da tradizione a Interlagos avremo pioggia intensa. Vi ricordo che questo è anche un weekend sprint. Tra l'altro proprio a proposito di questo non so se faremo tutte e tre le gare in questo video. Non l'ho ancora deciso e volutamente mi riservo di deciderlo in corso d'opera. Perché da una parte non voglio che il video risulti troppo lungo. Dall'altra voglio dedicare il giusto tempo a queste tre gare che potrebbero essere decisive. Quindi faremo sicuramente Interlagos e Las Vegas in questo video. Abu Dhabi dipende. Dipende quanto dura il video e soprattutto dipende se Abu Dhabi sarà decisiva. Perché se Abu Dhabi risulterà decisiva per il Mondiale allora ce la facciamo nel prossimo video. Anzi il prossimo video sarà interamente dedicato al finale di stagione. Perché a quel punto voglio prenderla con molta calma se la gara è decisiva. Se invece arriveremo ad Abu Dhabi con i giochi già fatti a quel punto andremo dritti. La faremo velocemente e chiuderemo già oggi la stagione. Però in questo momento non lo so ancora. Quindi lo vedremo in base a come si mettono le cose. Anche perché abbiamo un weekend sprint da affrontare che ci porterà via già un bel po' di tempo. Quindi buttiamoci nel weekend brasiliano di Interlagos. Allora inizia il Q2. Minì ha rischiato un po' nel Q1. Quindi adesso lo facciamo subito uscire per prendere un po' di fiducia con la pista. Ok si lancia adesso Gabriele Minì per il suo tentativo del Q2. C'è anche Verstappen che si mette dentro non benissimo Verstappen. Attenzione neanche Minì. Occhio perché stiamo rischiando con entrambi. Stiamo rischiando con entrambi. Per carità Verstappen l'abbiamo fatto provare con la gomma usata. E forse devo fargli fare un altro tentativo. Vai Max prova con la gomma nuova. Si lancia Max. Minì lo lascerei a posto dovrebbe farcela. Allora in questo momento Max è il primo degli esclusi ma si mette dentro si mette terzo. E quindi portiamo entrambe le vetture al Q3. Meno male. Con un po' di sofferenza ma ce la facciamo. Tra l'altro è pieno di penalità. Soprattutto sono penalizzate entrambe le Aston Martin e la McLaren di Lando Norris. Quindi attenzione. Perché anche Minì è penalizzato? Ah anche Minì è penalizzato perché aveva causato l'incidente e la gara precedente aveva preso penalità. Sì giusto. In un'altra situazione avremmo potuto approfittare della penalità a Minì per cambiare qualche componente. Magari montargli un motore nuovo, un hers nuovo ma siamo a corto di soldi. O meglio i soldi ce li avremo anche. Ma siamo al limite del budget cap quindi evitiamo spese che non sono assolutamente necessarie. Allora io li farei uscire adesso. Che si danno anche Shia. Anzi Verstappen da Shia a Minì. Traffico spero di non beccarne. Vediamo. No. Zuzo Zunoda è stato superato sul rettilineo però. Verstappen si mette terzo. Minì rimane decimo. Non una buona qualifica. Non una buona qualifica. E finisce così dunque con Max che parte terzo nella sprint e Minì parte decimo. Questa è chiaramente l'ordine di partenza della sprint. Anche le penalità che vedete verranno poi scontate nella griglia della domenica. Allora per la gara sprint io mi andrei a giocare una gomma rossa con Max anche se siamo molto tirati con la rossa. Mentre con Minì forse è il caso di mettere la gialla. Vediamo. Sì. Oddio non lo so. No facciamo rossa anche con Minì dai. La gara sprint è col sole quindi la pioggia al sabato non dovrebbe arrivare. Per cui cerchiamo di approfittarne. Di fare una gara ordinata che ci consenta di guadagnare magari qualche posizione in griglia. Via. Si parte. E un po'. Se Max riesce subito a spuntarle in mezzo alle due a Stone Martin. Con anche Yukitsunota che si mette in seconda posizione. Niente. Max va via. Terzo dopo l'essere di Senna. Mentre Minì addirittura scala in undicesima. Sì è lì ruota a ruota con Leclerc. Cliente scomodo. Leclerc. Anzi le due Ferrari. Perché davanti poi c'è Russell, Perg, Brele, Minì. Vediamo un po'. Adesso si rimette davanti alle Clerc. Ok Verstappen si mette in testa al giro 8. I primi 3, anzi i primi 4 sono andati via. Anche se adesso soprattutto Verstappen e Ocon stanno allungando. Mentre Minì è sceso in tredicesima. Tre giri al termine. La buona notizia è che Verstappen se la sta giocando con Sunoda. Le due Aston Martin sono rimaste staccate. Mentre Minì è disperso in quindicesima. Adesso attenzione all'ultimo giro Max. Perché qui devi spingere. Qui devi dare tutto quello che ti è rimasto. E devi assolutamente superarmi i Yuki Sunoda. Perché sono importantissimi questi 8 punti. Visto che l'Aston Martin sono terza e quarta. Ruota a ruota. Ne ha di più sul Drittles. No da che ha anche DRS. No no no. Vai su potenza. Vai su potenza. Dobbiamo superarlo assolutamente. Vai Max. Vai Max. Vediamo un po' di potenza anche a Minì. Anche se ormai è molto staccato anche da Albon. Vediamo sul rettilineo se riesce a superarlo. Occhio anche alla benzina. Vai Max. Vai Max. No. Non ci credo. Un po' stile Perez Alonso. Verstappen rimane dietro per 74 millesimi. Peccato perché sono punti importantissimi. Minì chiudo se non ho visto male in quindicesima posizione ma. Per carità. I punti pesanti si fanno alla domenica. E partiremo comunque in prima fila. Va bene tutto. Però credo che l'Aston Martin facendo terza o quarto abbia comunque guadagnato più punti. Eh direi proprio di sì. Aston Martin se ne porta a casa 11 contro i 7 della Red Bull. Quindi allunga un po'. Avrebbe allungato comunque anche se avessimo preso gli 8 punti del primo posto. Era un punto in più. Però. Dobbiamo raccogliere veramente tutto se vogliamolo. Giocarci effettivamente fino ad Abu Dhabi. Per un complesso gioco di penalità. Minì che si era qualificato quindicesimo. E ha tre posizioni di penalità in griglia. Sarebbe dovuto partire diciottesimo. Ma per le penalità altri partirà undicesimo. Quindi tutto sommato ce l'abbiamo guadagnato. Il motivo per cui ho voluto evitare di usare le gomme gialle nella gara spinta. Perché sapevo che sarebbero servite per la gara. Allora. Attenzione perché la pioggia arriva solo nel finale. Arriva solo dopo il giro 50. Quindi. Se noi partissimo con una bellissima gomma bianca. Fatemi vedere. Allora partire con gomma bianca e aspettare la pioggia. Una roba veramente tiratissima. La può fare Max Verstappen. Non so quanto convenga. Perché la pioggia arriverà intorno al giro 55. E sta gomma finisce al giro 45. No non è fattibile. Piuttosto mi farei un rossa gialla. Rossa gialla e poi si cambia. Questo sì. Questo mi piace già di più. Mentre con Minì la situazione è un po' più complessa. Perché bisogna dare un pelo più conservativi. Ecco con Minì potremmo farla così. Un rossa bianca. Quindi stessa strategia molto simile. Ma una sostanza. Anzi ha due soste. Perché poi nella seconda si metterà la gomma da bagnato. Interessante poi capire come gestiranno anche gli altri la strategia. Perché quando piove. È sempre molto. Molto difficile azzeccare la strategia giusta. La strategia migliore. Perché se vedo diversi pilot in gomma rossa. C'è anche una. Una stormar. Un'alfa romea con gomma bianca lì dietro. Vediamo un po'. Eh sì. C'è Guanyu Gio che ha gomma bianca. Sì. Molti con la rossa. Molti con la bianca. Poghi con la gialla effettivamente. Comunque siamo partiti. Con Max che viene subito attaccato da Russell. Vai Max vai. Siamo un po' di Erz in partenza. Mentre Ermini è attaccato da De Vries. Allora io andrei subito per fare il giro veloce con Max. Che dopo viene a piovere e magari ce lo portano via. Vediamo se riusciamo. No. Max non sta riuscendo in realtà. Sto un po' faticando. Anzi devo dire che Zanoda sta scappando via. Anche parecchio. Adesso il suo vantaggio è di 3 secondi. Mentre Ermini è in undicesima. Oh c'è di buono signori che l'Aston Martin con la penalità sono ancora in 16 e 17. Però occhio perché avendo preso penalità sicuramente hanno montato dei motori nuovi. O comunque dei componenti nuovi che faranno la differenza. Mentre Verstappen sta ricucendo il gap che lo separa da Zanoda. Lo sta andando a prendere dai Max. Dai Max. Mentre Ermini adesso è molto in difficoltà anche con la gomma. Sceso in 14esima posizione. Superato anche da Sto Martin di Stroll. Mentre Verstappen intanto prende e supera Zanoda. Nel momento della sosta per Ermini che va dentro. 2-1 la sosta. Rientra in ventesima posizione. Adesso toccherà anche a Max Verstappen. Che monterà però gomma gialla. Vediamo. Sta arrivando Max. Va dentro. 2-0. Rientra in quinta posizione. Rientra in quinta posizione. Fatemi un po' vedere la situazione com'è. Perché quelli che sono davanti non si sono fermati. Giustamente si fermano adesso. Quindi Max adesso va andrà a riprendersi la prima posizione. Zanoda fa il giro veloce. Il maledetto. E io da una parte vorrei provarci con Max a farlo. Però dai ci proviamo. Ci riproviamo. Vediamo un po'. Anche un po' di traffico però. Infatti non riesce. Vabbè lasciamo stare il giro veloce per questa gara dai. No mini bloccaggio. Vediamo. Vabbè. Mini sta facendo una gara assolutamente anonima adesso in diciannovesima posizione. Questo spiattellamento delle gomme sicuramente non lo aiuterà a portare a casa lo stint. Iniziamo costretti ad abbassare il ritmo con Mini. Tra poco verrà anche doppiato da Verstappen se continua così. Allora diamo un'occhiata alla pioggia che sta per arrivare e diventerà da full wet. Vabbè no giudicare dal grafico direi che quella è pioggia full wet. Quindi io aspetterei a montare l'intermedia e andrei subito con la full wet. Ok inizia a piovere. Intanto Zanoda ha superato Max Verstappen. Occhio. Adesso è il momento giusto per la sosta. Adesso qui possiamo anche alzare un po' il ritmo perché le temperature chiaramente si abbassano con la pioggia. Allora adesso diventa da intermedie. Però io aspetto, aspetto almeno ancora un po'. Infatti non si sta fermando nessuno probabilmente per lo stesso motivo. Adesso iniziamo a fermarsi e forse intanto mi fermerei con... Eh non possiamo neanche fare la sosta insieme perché sono vicini Verstappen e Mini. Quindi io la farei prima con Verstappen a sto punto. La farei prima con Verstappen. Andiamo direttamente di full wet. E Mini... Mini al prossimo giro perché altrimenti mi rallenta Verstappen. Peccato perché lo stava proprio per doppiare in questo giro. Non c'era un momento peggiore per approcciarsi al doppiaggio. Comunque Max sosta ottima. 1-9 riparte in prima posizione. Davanti a Zanoda. Poi Norris. Poi Russell. Leclerc, Gasly e poi le due a Ston Martin. Bene. Adesso va anche Mini. 2-0 la sua sosta. Ovviamente Mini rimane sempre in diciannovesima anche se c'è Mick Schumacher che ha messo le intermedie. Quindi si fermerà di nuovo. Però insomma anche discreto ritardo. 23 secondi di ritardo Mini da Schumacher. Quindi potrebbe rimanere dietro anche nonostante la sosta del tedesco. Adesso diventa finalmente la full wet. Allora Verstappen sta allungando. Se ne sta andando via in solidaria. Mentre Mini sta accorciando leggermente e lentamente su Schumacher. Ma insomma massimo che può ottenere la diciottesima posizione. Gara assolutamente deludente. E a questo punto teniamo d'occhio le due a Ston Martin che sono in settima e ottava posizione. Finisse così prendiamo bei punti sulla Ston Martin comunque. Attenzione perché in questi ultimi giri. Infatti stanno già entrando ai box vedo le Ferrari. La pista diventa da intermedie. Eh che fai adesso? Ti fermi o non ti fermi? Allora con Mini sicuramente mi fermo. Perché tanto che ci abbiamo da perdere. Però con Max che fai? Alla fine sono tanti i giri. Bisognerebbe capire cosa fanno quelli dietro. Perché se ti fermi rischi tanto. Eh ragazzi questa è una slagindola importante. Devo prendere una decisione che è delicatissima. Perché se mi fermo e gli altri non si fermano che succede? Io mi fermo. Voglio scommettere che anche gli altri lo facciano e quindi io mi fermo. E se gli altri non lo fanno spero di poter recuperare in pista nei giri che mancano. Quindi sì. La pioggia tanto non aumenta. E vai. Facciamo così. Non so neanche in che punto della pista eravamo con entrambi i piloti. Con Max siamo a metà giro. Con Mini l'abbiamo appena cominciato. Capirai. Vediamo un po' che fanno gli altri. Allora Max va dentro. Non vanno dentro le McLaren. Attenzione. E Max ti entra a 4 secondi dalle due McLaren. Anzi a 4 secondi da Norris e 8 da Tsunoda. Questo è un momento molto delicato. Adesso va dentro Tsunoda. E allora dovrà andare dentro anche Norris dai. Non c'è altra soluzione. Vediamo. Va dentro anche Norris. Infatti aspettano pure tanto le due McLaren. E guarda un po' chi guadagna. Guadagna Stroll. Che si porta in... Ah Stroll però non si è fermato. Si ferma adesso. Stroll non si è fermato. Si ferma adesso. Comunque ci hanno guadagnato. Perché salgono in sesto e settimo le due Aston Martin. Ma in realtà no. Si mette in mezzo Gasly. Vabbè. Vediamo. Tre giri alla fine. Dobbiamo gestirla. Abbiamo fatto per una volta la scelta giusta. Mini è rimasto dove era invece. Nonostante Mick Schumacher continua a montare le gomme al contrario. Adesso è con la full wet. Vabbè. Inizia l'ultimo giro. Verstappen ha 13 secondi di vantaggio sulle McLaren che seguono. Le Aston Martin sono in P6 e P8 al momento. Arriva Verstappen. Va a vincere la gara. E Mini supera Mick Schumacher. Chiuderà in diciottesima. Mentre P6 e P8 confermate per le due Aston Martin. Allora recuperiamo qualche punticino in questo weekend di Interlagos. Va ad esultare Max Verstappen con il suo team. Andiamo però a vedere la classifica. Sono molto molto curioso. Lando Norris si porta a casa il punticino addizionale. Max ne fa 25. Anche se poi bisognerebbe vedere nel complesso del weekend. Comunque nella gara. Togliendo la gara sprint. In cui abbiamo perso 4 punti. Qui ne guadagniamo. Dunque Aston Martin ne fa 8 più 4. Ne fa 12. Ne facciamo 25. Quindi noi qui guadagniamo 13 punti. Loro ce ne hanno guadagnati quanti? 4 prima? Guadagniamo tipo... Sì, vabbè. 9 punti. Una cosa del genere. Nel complesso. Lando Norris in classifica piloti supera Lance Stroll. Si porta al secondo posto. Anzi si riprende il secondo posto. Eh sì. 23 a 32. Potevo pure evitare di farmi calcoli. Tanto poi ce lo diceva qui. Non ci stavo pensando. Quindi effettivamente la Red Bull accorcia sulla Aston Martin. Ma attenzione perché chi fa il colpaccio qui a Interlagos è la McLaren che fa 46 punti. E si avvicina tantissimo alla Red Bull. Adesso è a meno 4. Quindi campionato più che mai aperto. Perché lì davanti la Aston Martin sta rallentando. E dietro Red Bull e McLaren stanno venendo su fortissimo in questo finale. Soprattutto la McLaren. Ci sono 3 scuderie in 26 punti. A 2 gran premi dalla fine. Non abbiamo sottoscocca per Las Vegas. Dobbiamo montarne uno molto molto vecchio. E vabbè montiamo il 3 superstap e ne addirittura il 2 dobbiamo montare su Mini. Perché il 5 è in produzione? Non mi ricordo. Sì forse forse arriva in tempo uno dai. Sì ok. Un sottoscocca nuovo per Max è arrivato. Mentre Mini rimarrà col 3. Che non abbiamo i soldi per produrne altri. E calla. Doveva succedere. Siamo stati ufficialmente sanzionati per aver superato il limite di spesa. La montare dell'ammenda è proporzionale al margine di superamento della soglia. Saremo ulteriormente sanzionati ogni mese fino a quando non riusciremo a rientrare nel limite di spesa previsto. Una situazione problematica considerati i costi per gli stipendi del personale e la gestione delle strutture. Qui di seguito può trovare un riepilopo della multa e le cifre sono state inserite nel rapporto finanziario mensile. Quindi. Ah praticamente funziona così. La multa è non solo proporzionale. La multa è esattamente quello che tu sfori dal limite di spesa. Perché noi abbiamo superato il limite di un milione e cinque. E quello stesso a montare diventa la multa praticamente. Quindi dobbiamo assolutamente stare attenti. È vero che mancano due gare e non manca tantissimo. Però bisogna stare assolutamente attenti anche perché le auto iniziano veramente a cadere a pezzi a questo punto della stagione. Ed eccoci qui. In quadrata la Sphere di Las Vegas ci siamo per il penultimo gran premio di questa stagione. Allora devo fare uscire Mini per un altro tentativo nel culo perché sta faticando a qualificarsi. Quindi parte adesso il suo giro lanciato con gomma nuova. Andiamo un po'. Ok si mette dentro, lo tirano fuori di nuovo, niente. Non gli si può chiedere nulla a Mini perché sta correndo con una macchina veramente distrutta a livello di componenti. Però con una punta sola è veramente difficile. Sto anche seriamente pensando di montargli dei componenti nuovi. Sforare di tanto il budget cap. Andare in penalità in griglia. Però poi averlo ad Abu Dhabi con una macchina... Non lo so, non lo so. Tra l'altro sono tutti penalizzati eccetto le due Aston Martin. Ovviamente anche Max Verstappen non è penalizzato ma questo non è buono perché vuol dire che le Aston Martin non hanno avversari praticamente in top 10. Quindi anche se Max dovesse vincere facilmente arriveranno sul podio immagino. Ok pronti ad uscire per l'ultimo tentativo. Vai Max. Andiamo un po'. Dopo il primo tentativo con le commutate chiaramente ultimo. Ovviamente la polla sta facendo stroll ma vediamo in questo ultimo tentativo chi la spunta. Eh la spunta sempre stroll. Ah addirittura prima fila tutta verde. Porca miseria. Verstappen è terzo. Comincia dunque con le peggiori premesse possibili. Questo gran premio di Las Vegas. Prima fila tutta Aston Martin. Mini fuori al Q3. Al Q1 addirittura pardon. Riguardo all'idea di prendere penalità con Mini e esporare ulteriormente il budget cap no. Istintivamente sarei portato a farlo sull'emotività del momento, sull'emotività della lotta al campionato costruttori però no. Perché in realtà noi non dobbiamo vincerlo quest'anno ai costruttori. E con un Mini e una macchina più competitiva l'anno prossimo potrebbe essere più semplice vincerlo. Più semplice, meno difficile diciamo. Stiamo lottando con una punta sola e oggettivamente anche montando i componenti noi a Mini rischiamo di sforare il budget cap. Fa rincazzare parecchio il consiglio per poi non riuscire neanche a vincere. Quindi se ce la facciamo bene ma non siamo obbligati a vincerlo in questa stagione. Fermo restando che dobbiamo sempre essere pronti ad approfittare di eventuali errori degli avversari. Questa è la situazione del cambio di Gabriele Mini. Il migliore è al 38%. Dobbiamo farci ancora due gare. Sarà tostissima. Questa sarà veramente tostissima. Guarda lì Leverdone in prima fila maledetti. Speriamo che si buttino fuori a vicenda. Sarebbe un sogno. Tanto penso a partire bene Max. Con che gomma parte? Tutti con gialla. Tutti con la gialla eccetto noi. Forse vanno per una sosta gli altri. Noi ne facciamo due. Rossa, gialla, rossa. Non ve l'ho detto ma siamo con doppia sosta per entrambi. Partiamo in rossa, poi gialla e poi rossa nel finale. Allora ragazzi è il momento della sosta di box. Siamo al giro 16. Va dentro Verstappen che si stava giocando. La prima posizione in realtà con diversi piloti. Con Stroll, Norris o Conn. È il primo a fermarsi di questi. Anche perché gli altri sono tutti partiti in gomma gialla. A questo punto vediamo se la strategia farà un po' la differenza. Occhio perché rientra. Ah guarda quanto traffico. Guarda quanto traffico. Perde un sacco di tempo qui Verstappen. Tanto si ferma anche Mini. 1.8 buona la sosta. E lui rientra in fondo. Vediamo se questa differenza di strategia paga in qualche modo. Allora iniziamo a fermarsi anche quelli davanti. Verstappen sale in nona posizione. Però sì secondo me ha perso un sacco di tempo. Nel traffico in realtà. Adesso super a Stroll. Andiamo a vederlo il sorpasso. Beh sul rettilineo di potenza. Di DRS soprattutto. Si mette davanti. E attualmente è terzo. È terzo con quelli davanti. No. Znoda si è già fermato. Infatti adesso super ha Znoda in pista. Si ferma. Adesso ho anche due davanti. Znoda ha messo la bianca. Anzi tutti hanno messo la bianca. E credo che vadano fino in fondo. E non lo so chi avrà la meglio da questo punto di vista. Dobbiamo spingere tanto. Quello che mi preoccupa un po' è che in questo stint dove avremmo dovuto fare un po' la differenza. Non la stiamo facendo. E stiamo andando più o meno sugli stessi tempi degli altri. Ragazzi siamo al giro 34. È tempo di gomma nuova per entrambi. Va dentro Max. Questo è un momento decisivo perché gli altri non si fermeranno. Buono il pit stop. Buono Dio. Due e due. Quasi due e tre. Non buonissimo ma comunque buono. Rientra in P8 e adesso deve riprendersene tutte in pista. Gli altri sono tutti con gomma bianca a parte Bottas. Non lo so. Non lo so ragazzi. Era la strategia giusta. Sta andando dentro anche Mini. Due e zero per lui. E stesso discorso. Lui rientrerà comunque credo in diciannovesima. Non è che ha molto margine. Però insomma vediamo se riusciamo a fare qualcosa adesso. Ragazzi Verstappen mi sta faticando a riprendere Bottas. Adesso prende lo super a far giro veloce. Però Bottas addirittura se la riprende. Verstappen sta lottando con Bottas. Non credo che sia stata la scelta giusta. Quella di fermarsi e montare la gomma rossa. Purtroppo. Mancano dieci giri al termine. E sì giriamo più veloci. Circa un secondo e mezzo. Ma sono lontani gli altri. Sono lontano undici secondi il leader. Non lo so se ce la può fare Max. Certo è che deve spingere. E adesso c'è quel gap lì che è abbastanza importante da recuperare. Che lo separa dal gruppone dei primi. E adesso comincio a perdere addirittura Max. Come mai? No era un momento. Adesso guadagna di nuovo. Adesso c'è un po' un crollo delle gomme hard. No va a tratti in realtà. Perché loro si tirano quel DRS. Mancano tre giri. Non ce la fa Max a prenderli. Non ce la fa. Siamo all'ultimo giro. All'ultimo giro Max ha un secondo e tre. Un secondo e quattro da quelli davanti. Adesso entra in zona DRS. Che beffa. Lasciatemi dire che beffa. Vediamo. Chiudo in quinta posizione. Guarda erano lì. Qualche giro in più. La strategia non ha funzionato veramente per poco purtroppo. Doppietta a Stomartin ragazzi. Questo Temo che chiuda. Non matematicamente. Ma in pratica chiuda i giochi. Mini diciottesimo ovviamente. Eh peccato peccato. C'è stato un errore di strategia qui. Anche se comunque credo che sarebbe cambiato poco. Perché se anche avessimo vinto. Con poi le altre due a Stomartin sul podio. Avrebbero comunque preso tanti punti. Certo magari sarebbe rimasto un po' aperto il discorso ma. Credo che con questa doppietta. Senza neanche le McLaren. Oltretutto sul podio. Prendano veramente tanti punti a tutti. E tanti saluti per Abu Dhabi a questo punto. Tra l'altro Stroll si riprende il secondo posto in classifica. Il problema è che veniamo superati anche da McLaren. E questo è il vero problema. La Stomartin si porta a 51 punti di vantaggio sulla McLaren. E 51 punti con una gara da correre. Vuol dire che la Stomartin è matematicamente campione. Perché in palio ci sono per i costruttori 26 più 18. Cosa sono? 44 punti? Se fai doppietta e giro veloce porti a casa 44 punti. Se non ho fatto mali i conti. E la Stomartin ne ha 51 di vantaggio. Quindi vince matematicamente il mondiale costruttori. A noi non resta che la lotta per il secondo posto con la McLaren. Che è apertissima perché siamo a 3 punti di distacco. A questo punto Abu Dhabi ce la facciamo subito e via. Volendo sarebbe aperto anche il campionato dei pit stop. Perché abbiamo accorciato tantissimo su Mercedes. Che è crollata in questa speciale classifica nelle ultime gare. E siamo lì. A 30 punti. Vediamo. Ed eccoci qui ad Abu Dhabi per il finale di stagione. Che purtroppo ci toglie il gusto di giocarci all'ultima il campionato costruttori. Ma abbiamo ancora un secondo posto da conquistare. Anzi da riprenderci. Perché ci hanno tolto all'ultimo gran premio. E ce lo dovremo riprendere qui ad Abu Dhabi. Perché comunque sono soldi. Sono punti. È importante. Niente ragazzi. Minì non ce la fa neanche stavolta in Q1. Nonostante gli abbia fatto fare il giochino della fiducia. Gli abbia montato la gomma nuova. Niente. Rimane fuori. Ma ripeto. Ha una macchina che praticamente cade a pezzi. Quindi non è neanche troppo colpa sua poverino. Quindi diciamo che anche stavolta ci lascia una punta contro due. Via. Usciamo. Per l'ultimo tentativo del Q3. Vediamo dove si qualifica Max Verstappen in questo GP di Abu Dhabi. Non dovrebbe trovare traffico. Forse trova Perez. Non dirmi che trova Perez nell'ultimo settore. Vediamo. Ok. Si mette in testa. Fa pole position. Vediamo se non li tolgono. No. Direi di no. E le due McLaren sono quinta e sesta. Buono. Strategia. Due soste rossa. Bianca rossa. E vediamo un po' di concludere almeno degnamente questa stagione risurpassando la McLaren in classifica costruttori. È tutto pronto. Si accendono i semafori. Ovviamente non l'ho neanche detto ma le due Aston Martin subito seconda e terza di Robert Verstappen. L'hanno chiuso veramente fortissimo questo mondiale. La seconda parte di stagione sono andate veramente fortissimo. Le Aston Martin si mette davanti e ci resta Max. Vai. Allunga subito va. Giro quindici. Max è volato via. Otto secondi di vantaggio sulle due Aston Martin che inseguono. È anche arrivato il momento del pit stop. Monteremo gomma bianca. E lo stesso faremo anche con Mini che invece è in sedicesima. Si sta giocando la quindicesima con Sainz. Andiamo ai box con Max. Vediamo un po'. Dai facciamo una bella sosta che magari è utile anche per la classifica dei pit stop. 2-0 va bene. Attenzione perché rientra un po' nel traffico. Rientra in ottava. In ottava sì. Mentre Mini 2-1. Quindi screda anche la sua di sosta. Safety car. Ecco mi immaginavo che avremmo visto una safety car qui da Abu Dhabi. Che in realtà non ci serve a nulla perché ci siamo appena fermati. Ovviamente gli altri ne approfittano. E questo non va troppo a favore di Verstappen perché le due Aston Martin e le due McLaren si fermano in safety car perdendo molto meno tempo. Sono da bloccaggio? Cioè Zunoda ha fatto un bloccaggio in safety car veramente? Che pollo. Vabbè non ha perso niente ovviamente. Si sta per ripartire. Pronti a spingere. Pronti a spingere. Vai. Adesso Max dovrà fare il vuoto di nuovo. Invece viene superato da Stroll. E fatica a tenere il passo con questa gomma. Eh ragazzi Stroll sta andando via. Adesso viene superato anche da Ocon Max. Sta soffrendo parecchio. Parecchio. E se finisse così arriva davanti la McLaren. Perché è vero che sono dietro ma sono due piloti contro uno. Il problema è che le Aston Martin volano. Ma direi che è il momento di montare gomma rossa per questo finale. Ma dentro mini 1.8 la sosta. Ottima. Ottima. Va dentro 1.9 anche Verstappen. Allora gli altri vanno fino in fondo. Verstappen ha gomma nuova. Adesso deve spingere come un dannato. Tempo che questo sia un po' lo stesso errore di Las Vegas. La strategia a due soste sembra non pagare mai sto gioco. Adesso chiaramente Max fa giro veloce. Però sta crollando la gomma di Stroll che adesso è primo. Ma sta letteralmente crollando. E la cosa buona è che sono crollate anche le McLaren che si sono fermate a montare gomma rossa. Per questi ultimi giri. Verstappen però deve vincerla sta gara. Deve assolutamente vincerla perché è importante prendere i 25 più 1. Via via supera anche Stroll che poi si ferma però. Si ferma Stroll e precipita a far recuperare posizioni alle McLaren. Occhio anche alla benzina eh. È un finale un po' thrilling per questa seconda posizione del campionato costruttore di Verstappen. Ormai sta andando verso la vittoria tranquillamente. Perché adesso ha 6 secondi di vantaggio. Quindi non dovrebbe avere problemi. In tutto ciò non stiamo seguendo per niente Mini che comunque sta facendo una gara assolutamente dignitosa. Considerando le condizioni della macchina a 14 inizia l'ultimo giro per Max Verstappen. Ma attenzione perché le McLaren sono risalite in P3 e P4. Bisognerebbe fare un po' di conti. Perché finisse così Max ne prende 26. Però Tsunoda ne prende 15. E Norris ne prende... Nooo così vincono loro raga. Tsunoda fa 15. Norris fa 12. Ne prendono 27. Verstappen da solo ne prende 26. Non ce la facciamo così. Dov'è Stroll? Scusa andiamo a seguire la loro rigara perché tanto è inutile. Eh Stroll è attaccato. Dai Lance. Dai Lance. Se Lance supera Norris... A quel punto Norris ne prende 10. Non basterebbe comunque. Non basterebbe comunque. È inutile. Infatti Stroll adesso va a prendere Norris. Adesso la McLaren sta facendo 25 punti contro i 26 di Max. Finiremo due punti sotto così. Non ce la faremo. Albon come è messo? Magari. No Albon è lontano. Albon è lontano e Stroll è troppo lontano Tsunoda. Va a vincere Verstappen ma purtroppo sfuma anche il secondo post. Veramente una beffa questo finale di stagione. Veramente una beffa e purtroppo mi spiace dirlo ma sono mancati i punti di mini in queste ultime gare perché Verstappen ha lottato veramente da solo come un leone. Ha fatto tutto quello che poteva. Guardate che bella luna che c'è lì dietro. Però se ho fatto bene i conti vince di un paio di punti vince. Arriva a seconda di un paio di punti la McLaren. Fermi tutti però. C'erano i punti doppi. C'erano i punti doppi però non cambia nulla secondo me. Vediamo un attimo. Perché Max fa 51 punti però è chiaro che Tsunoda ne fa 30. Norris ne fa 20 quindi comunque ne fanno 50. E infatti prendiamo un punto in classifica la McLaren ma chiudiamo comunque terzi per due punti. Che beffa ragazzi. Peccato. Sono molto amareggiato perché notare per vincere i costruttori in questa stagione era oggettivamente qualcosa di oltre le nostre possibilità. Però a secondi era la nostra posizione. Ce la meritavamo e avevamo assolutamente le potenzialità per raggiungerla. Purtroppo è mancato Mini in questo finale e anche nella classifica Pit Stop ci avviciniamo tanto alla Mercedes ma chiudiamo secondi. Vabbè. Oh intanto Gabriele Mini è salito a 79 di overall eh. Buono. Abbiamo comunque fiducia elevata il che è importante. Abbiamo messo da parte 32 milioni e mezzo che non possiamo spendere per via del Budget Cup ma ci ritroveremo nella stagione successiva credo. Andiamo a vedere quant'è la penale per il Budget Cup. L'abbiamo sforato di 3 milioni e 4 quindi la multa è di 3 milioni e 4. Ed eccoci qui. Allora. Classifica Pit Stop. Chiudiamo al secondo posto e sono 10 milioni e mezzo che comunque male non fanno. Fiducia elevata per quanto riguarda il consiglio che è importante. Max Lestappen vince il mondiale. Mini arriva a dodicesimo alla fine perché non ha più fatto punti giustamente. E noi chiudiamo terzi in classifica costruttori. La valutazione squadra 5 stelle. Eh non abbiamo rispettato le aspettative del di questa stagione perché appunto ci si è aspettato ad arrivare i secondi. Siamo arrivati i terzi. È chiaro a questo punto che l'obiettivo a lungo termine è vincere il mondiale costruttori e il termine è il 2027 ovvero la prossima stagione. La mia valutazione team principal scende ancora perché scende a 623. E anche la valutazione della squadra come costruttore scende a 771. Quindi c'è consiglio elevato. Ok. Andiamo a dare un'occhiata alle modifiche per la stagione 2027. Che prevede più ore in Galleria del Vento per i team piazzati peggio e meno ore per quelli piazzati meglio. Quindi tutto sommato ad essere arrivati i terzi forse è anche un bene da questo punto di vista. Poi ci sono le modifiche tecniche che vabbè quelle andremo a vedere poi in pista come incideranno. E a questo punto direi che ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per aver visto il video. Mi raccomando ragazzi il pollicione in su per questo finale di stagione importantissimo. Se siete nuovi iscrivetevi ma soprattutto iscrivetevi. Se non siete nuovi guardate abitualmente i video e ancora non vi siete iscritti. Facendole date una grandissima mano al canale. In tal caso vi ringrazio ma soprattutto vi troverete in home comodamente i video man mano che escono senza doverli andare a cercare. Per questo video e per questa stagione è tutto. Non ci sarà l'episodio infrasettimale che avrebbe dovuto essere a Budabi ma era inutile staccarlo perché tanto non aveva più valore quella gara. Se non per il secondo posto che tra l'altro abbiamo mancato ma vabbè. Quindi piccola pausa infrasettimanale. Ci rivediamo direttamente sabato ore 12 con l'inizio della nuova stagione.